Il termo utilizzatore costituisce un'importante fonte di energia per la città di Brescia. Produce energia elettrica pari al fabbisogno di oltre 200.000 famiglie e oltre la metà del calore necessario per la rete di teleriscaldamento che serve il 70% degli edifici cittadini. Tratta solo i rifiuti urbani indifferenziati e speciali non pericolosi che non possono essere recuperati come materia. Riduce così lo smaltimento in discarica e il ricorso a combustibili fossili e le relative emissioni in un'ottica di economia circolare. Il 50% dell'investimento per la realizzazione dell'impianto è stato destinato ai sistemi di depurazione dei gas di combustione e a quelli di protezione ambientale. Attualmente è in corso un intervento che consentirà di produrre più energia termica per la rete di teleriscaldamento recuperandola direttamente dai fumi di combustione senza alcun incremento di potenza. Sarà così possibile migliorare ulteriormente l'efficienza e le prestazioni ambientali dell'impianto. Per il controllo delle emissioni in atmosfera sono installati sei sistemi completamente automatici che funzionano 24 ore su 24 come laboratori chimici effettuando analisi in tempo reale. Le emissioni sono sempre molto al di sotto dei limiti indicati nell'autorizzazione integrata ambientale e sono consultabili sul sito www.a2a.eu e sui totem cittadini. Il sistema Ambiente Energia di Brescia rappresenta una scelta responsabile in linea con gli obiettivi europei in tema di efficienza energetica ed economia circolare. che rende la nostra città un'eccellenza per la sostenibilità ambientale nel mondo.